Buonasera mister, allora con il nuovo modulo pareggio a Foggia, vittoria a Crotone. Qualcuno potrebbe dire che non era meglio cambiare prima modulo, c'è una battuta. Una bella battuta questa, nel senso che con i 4-3-3 abbiamo fatto 34 punti, non scordiamoci queste cose qui. Però in questo periodo storico del campionato, insomma, cambiando si è vista una squadra più compatta. Ma è l'atteggiamento, la voglia, lo spirito che la squadra ha messo in campo, lo spirito giusto di terminazione contro una squadra molto difficile e secondo me molto forte. Una squadra che si è vista che dopo il 2-0 ha cercato in tutti i modi di riaprire la partita, mentre nel secondo tempo siamo stati secondo me molto bravi. Abbiamo chiuso tutti gli spazi, ripartivamo veloce e abbiamo avuto anche diverse possibilità di fare altri gol e questa magari è una pecca che dobbiamo eliminare. Le chiedo qualcosa sulla formazione iniziale, Gravion in panchina, la conferma di Campagnaro e Scogna Miglio, i fatti le hanno dato ovviamente ragione perché Campagnaro ha anche segnato, ma è questo un avvertimento a Gravion? Adesso è un giocatore dell'Inter però deve giocare per il Pescara? No, non è avvertimento per nessuno, Gravion ha sempre fatto molto bene, solo che ho voluto confermare la squadra che aveva fatto molto bene secondo me a Foggia. Non era giusto tirar fuori qualcuno perché quando si fanno delle ottime prestazioni, secondo me bisogna riconfermare chi gioca bene. Perciò è una concorrenza leale fra tutti i giocatori che ho a disposizione. Io so di avere dei difessori molto bravi, poi quando è entrato Gravi ha fatto anche benissimo perché è entrato bene in partita, non ha concesso più niente all'avversario, perciò tutti sono nella possibilità di giocare. L'importante è continuare con questo spirito che stiamo facendo adesso. Direi importante Pillon anche la rete di Monachello, questo è un giocatore recuperato, aveva segnato nella sfortunata gara con il Brescia, ha segnato oggi con questo modulo, Monachello gioca titolare e fa anche i gol. Deve credere di più nelle sue possibilità che sono tante, dobbiamo migliorare con il duo d'attacco nelle combinazioni perché ancora non le facciamo bene. Secondo me abbiamo un attacco che può far bene, se si aprono e fanno bene le cose possiamo migliorare ancora. Cosa cambia questa vittoria, se cambia qualcosa un po', potrebbe essere questo un po' il crocevia del campionato del Pescara? Una vittoria fondamentale perché ormai credo che la salvezza sia acquisita, il primo obiettivo è stato raggiunto, adesso pensiamo all'altro obiettivo che sono i play-off, cercare di guadagnarsi il più mutti possibile per guadagnare i play-off. Poi si vedrà, intanto giochiamoci tutte le partite come abbiamo fatto stasera. Due parole per Campagnaro sono d'obbligo e anche per Fiorillo che ha effettuato 3-4 parate miracolose. Sì, Campagnaro, Scognamiglio, Fiorillo. Scognamiglio anche gli è nato la figlia. Sì, sono contento per lui e abbiamo festeggiato nel miglior modo possibile. L'ultimissima mister, sabato arriva il Padova. Pescara c'è da vendicare quel 2-2 dell'andata che grida ancora vendetta. Fino al novantesimo Pescara in vantaggio per 2-0, poi 5 minuti di blackout e pareggio della formazione veneta. Ma è una partita molto difficile come quelle tutte in questo periodo qui perché loro devono lottare per salvarsi. E quando giochi contro quelle squadre lì diventano delle partite veramente delle battaglie dure. Dobbiamo essere molto attenti. Adesso abbiamo vinto, non bisogna esaltarsi più di tanto perché abbiamo vinto una partita. Dobbiamo dare continuità dei risultati come stiamo facendo e cercare poi di vincerne il più possibile. L'ultimissima mister dallo studio mi suggeriscono Marras nel nuovo ruolo, una rivelazione ma per lei probabilmente no. No, io so quello che mi può dare il giocatore perché avendolo già avuto conosco benissimo le sue caratteristiche. È un giocatore molto utile, può giocare a diversi ruoli.